Buonasera, la prima partita della prima giornata, Ingegneria Security contro Livatino SDA che ha vinto 5 a 1. Presentatevi. Massimo Ferrieri, il capitano. Paolo Vacella. Come avete giocato? Molti innessi nuovi, non li abbiamo provati nelle amichevoli, proviamo ora. La prima è andata bene così, pensavo di peggio. Possiamo migliorare. Che ha segnato? Bello. Bello, il gol di Bello. Cosa dobbiamo migliorare? Un po' tutti, dobbiamo creare un po' di sintonia di squadra. Tu dovevi? No, io non ho giocato, ho fatto il panchino. Allora, da fuori? No, è stata una bella partita, devono migliorare ancora. In bucca al lupo per la prossima volta. Va bene. Voi presentatevi. Antonio Fiorillo. Francesco Fiorillo. Copa. Adriano Colombrino. Allora, il Ferellino non vedeva l'ora di ricominciare la Mavirix. Solo per te. Solo per te. Come avete giocato? Abbastanza bene. Il risultato lo dice, 5 a 1. Una buona gara. 5 a 1. Sì, perché? 5 a 1. Possiamo fare di meglio, però. Dobbiamo fare di meglio. Faccio comunque i complimenti. Maura! È troppo brutto. Faccio comunque i complimenti alla squadra, a mio fratello. Complimenti per il gol. L'ho algalvanizzato anche a me. Lo ha là? Galvanizzato. Sicuro? Non so. Non so. All'anno segnato. Incredibile, ma vero? Crede. Un lullalo. Un lullalo. Non devi nullare. Gennaro Credella. E a chi vogliamo dedicare il gol? Alla mia squadra. Mamma mia. A tutte le persone che mi vogliono bene, quindi nessuna. E a Andrea. A me. Come avete giocato? Federica. Scusa, Federica. Ti portano nel cuore. Come avete giocato? Un saluto al fiocco di neve. Un saluto al fiocco di neve. Il primo tempo ci piacciono molto bene. Il secondo invece facciamo proprio schifo. Mi ha fatto un po' pena. Però va bene così. Qualche assenza, però... Sono solo ma sciso. Qualche assenza, però va bene lo stesso. È la prima. Va bene, non fa niente. Poi, Fiorillo, chi ti dica il gol? A tutti i miei compagni che non hanno giocato nemmeno la chiavica. Soprattutto nel gestire i cambi. Bravi. Esposito. Ma perché non venite a fare l'intervista a tutti quanti? Esposito. Sì, ho fatto un bel gol. Sono Esposito. Poi... Pascale. Vabbè. Che vogliamo dire più? Mamma mia. Mamma mia. Ma non si può cagliare. Intervistatrice? Bisogna cambiarla. Che dico, che dico? Sono quello che ha fatto a Bumola. l'altra volta, non c'è. Se vengo là, con la testa così. Non c'è così, fai. Fede, vieni qua. Fede, sto parlando. In bocca al lupo per la madre, Riccio. In bocca al lupo per la madre, Riccio. Quanto è la canzone? Volevo dedicare un pezzo alla mia fidanzata. E senza di te non posso... Fede, vieni qua. Tu che vuoi dire? Andiamo con i piedi. Vabbè, Fede, non vuole parlare. In bocca al lupo per la nostra partita. Trepi. Dobbiamo vincere. Compro una vocale. Arrivederci alla prossima parte.